Oggi grazie alla collaborazione con il programma dei Sailors di Leroy Merlin vi presento la camera Elvox TVCC di Vimar, un marchio una garanzia. Entriamo nel dettaglio di quelle che sono le sue caratteristiche, già dalla confazione abbiamo le informazioni generali è una camera a batteria con lunga autonomia, dichiarata dal produttore di circa tre mesi, possibile posizionarla sia all'interno che all'esterno, abbiamo una base magnetica per il supporto, le caratteristiche principali della camera prevedono l'angolo di rotazione di 360 gradi rispetto al suo asse verticale, 180 gradi rispetto all'asse orizzontale, poi secondo qual è il posizionamento che andremo a decidere di effettuare? Full HD 1080 frame per secondo, angolo di visuale 110 gradi, Wi-Fi 4 GHz, illuminatore notturno a 10 metri, funzione audio bidirezionale, quindi possiamo sia parlare che ascoltare, rilevazione movimento a 10 metri con la riduzione dei falsi allarmi, in più abbiamo possibilità, non incluso ovviamente nella confezione, di inserire una SD fino a 128 GB. Vediamo all'interno della confezione cosa troviamo, sono presenti i due scatolini, allora in uno abbiamo il librettino di istruzioni, il caricabatterie, è la base magnetica che possiamo collegare anche a muro con le viti e i rasselli in dotazione, troviamo anche il cavettino di ricarica, andiamo invece nel dettaglio di quello che è la vera e camera, anche abbastanza pesante, tutto per la presenza della batteria, lasciamola dal suo involucro, allora questa è la base a cui può essere collegata, quindi ovviamente a seconda della posizione che andremo ad effettuare di montaggio, di cablaggio, possiamo dare i vari angoli di visuale, questa è una IP65, quindi possiamo anche collocarla all'esterno senza nessun tipo di problema rispetto a quella che è la pioggia, vediamo sul laterale abbiamo il tastino di accensione spegnimento, qui abbiamo l'altoparlante visto la funzione di autodirezionale in ascolto e poi qui abbiamo la camera con i relativi sensori di movimento perché come vi dicevo la camera è dotata di un sistema di controllo del movimento così da attivarsi nel momento in cui dovesse rilevare fino a 10 metri di distanza un movimento, vediamo la possibilità di installarlo con l'applicazione proprietaria di Vimar, adesso ne vedremo passo passo, step by step, i passaggi comunque semplicissimi per poter effettuare l'installazione.